ciao benvenuto o benvenuta in questo nuovo video molto 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 speciale in questo video non ci saranno molte regole con te seguirò solo il mio istinto e cercherò di capire di che cosa hai bisogno ti fidi di me grazie per la fiducia allora e grazie di aver scelto me per questa sera dunque voglio aiutarti a rilassare corpo e spirito quindi faremo qualche attività insieme diciamo io farò qualche attività con te e per te d'accordo? bene come prima cosa vorrei accendere un po' di incenso posso? ti da fastidio l'odore proviamo bene sono sicura che non te ne pentirai bene ok ok fatti quell'area da questo meraviglioso incenso e dal suo profumo incredibile se poi dovesse darti fastidio me lo dici e lo spingo d'accordo? non c'è problema per ora lo metto qui nel mio portaincissino così ho preparato le mie carte oracolo e vorrei estrarne una sola per vedere un po' che cosa mi dicono che messaggio hanno le carte per te voglio fare prima una lettura intuitiva solo guardando la carta vedendola un po' insieme a te e poi voglio proprio leggere nel libricino il significato della carta e che cosa la carta vuole dirti ti va bene? molto molto bene bene secondo me il mazzo è pronto vediamo un po' quale messaggio uscirà per te quale messaggio deve ricevere la persona qui con me che sta guardando questo video quale messaggio si manifesterà tramite le carte ok lo prendo come un segno perché il mazzo si è proprio tagliato su questa carta raggiungere il tuo destino il raggiungimento del tuo destino la tua luce è splendida di brillantezza guarda che bella carta a me personalmente rimanda qualcosa di positivo e meraviglioso allora vediamo un po' cosa ci racconta la carta senza leggere il significato solo guardandola allora c'è un sentiero un sentiero lungo e tortuoso perché non è un sentiero dritto ma presenta delle curve e soprattutto quello che a me rimanda è che sia abbastanza lungo però alla fine di questo sentiero c'è una luce meravigliosa che io credo che sia la tua perché infatti il messaggio è che la tua luce splende brillante accecante c'è una farfalla da sola che vola libera e ci sono delle bolle dentro il quale dentro questa bolla che è la più grande c'è un castello allora a me questa immagine rimanda proprio l'idea dei castelli in aria quelli che un po' tutti noi ci facciamo a volte nella nostra testa per immaginare magari quello che vorremmo ma che per qualche motivo non abbiamo a volte semplicemente è un proprio sognare ad occhi aperti anche cose molto mirabolanti e fantasiose ora voglio andare a leggere il il libretto però quello che io mi sento di dirti è che fregatene di tutto quello che c'è intorno di tutte le altre bolle ognuna segue il suo percorso la propria vita la propria strada tu hai la tua meravigliosa ed è importante nel momento in cui avrai il coraggio di scegliere e percorrere quello che è il tuo percorso che sicuramente sarà lungo a tratti faticoso si incontreranno magari anche degli ostacoli quello che troverai alla fine sarà la ricompensa più grande dell'universo ovvero la tua luce interiore la tua brillantezza il tuo mi viene da dire proprio arcobalena interiore la tua felicità la tua serenità che dipende da te e da te soltanto allora questo è quello che mi è venuto intuitivamente da raccontarti guardando questa carta però vediamo un po' che cosa dice il libretto allora Reaching your destination vediamo 91 91 1 ti dicono qualcosa questi numeri chissà Allora, questo libretto è stato aperto già in questa pagina, quindi chissà magari nell'altra lettura che feci era uscita questa carta, non me lo ricordo Allora, il significato della carta, il duro lavoro e gli sforzi ripagano sempre, la gloria, il trionfo e il successo sono tuoi Se finora hai lasciato un po' andare quello che è il tuo potere, se non l'hai tanto considerato, come se ti fossi un po' sentito schiacciato dagli eventi senza dare davvero valore al tuo potere Questo è il momento di ridargli potere e forza e riprendertelo È il momento di brillare della tua luce, come appunto avevo intuito dalla carta Una destinazione non è tanto un posto quanto un nuovo modo di vedere il mondo Questa frase è molto bella Se hai dei progetti aperti che non hai mai portato a termine, qualche cosa ti risolto anche in ambito relazionale, ti dice il libretto Questo è il momento di completare, di chiudere il cerchio E la chiusura di questo cerchio è parte del raggiungimento della tua destinazione Prenditi il tempo per celebrare e arricchire i tuoi successi nella vita E questo era il significato della carta Questo mazzo in relazione a questa carta vuole che tu sappia questo Il viaggio è stato lungo E ci sono state tante avventure lungo il cammino Ma ad attenderti a destinazione C'è un grande sentimento di gioia E celebrazione È importante fermarsi e riposare E congratularti con te stesso, con te stessa Per chi sei e per quello che hai fatto Per tutto quello che hai fatto finora Lascia andare ogni sentimento di risentimento, paura, tristezza Che hai provato lungo la strada Hai raggiunto il tuo sogno Il tuo obiettivo più che altro Tutto il resto lascialo andare Tu sei un essere quasi maestoso Che può portare luce nel cuore delle altre persone Pensa che potenza Onora te stesso Tu vali Beh, scusami se è poco Questa carta è meravigliosa Quello che posso dirti ora Mettendo insieme Quello che il mio intuito mi diceva E quello che poi effettivamente ho letto Proprio riassumendo È che È molto facile oggigiorno Paragonarsi agli altri E svalutarsi In proporzione Noi vogliamo sempre meno È molto comune questo sentimento Questa emozione Non è una costante per tutti Ma è molto comune Soprattutto oggigiorno Nell'era dei social media Dove tutti sembrano Far vedere la propria vita Perfetta Ma ricordati che Quella è solo una parte Un'infinitesima parte Tu pensa al tuo percorso Alla tua strada Non deve essere come quella degli altri Deve essere la tua È la tua Può essere simile a quella di qualcun altro Può essere diversa Non ascoltare Non ascoltare gli altri Non ascoltare neanche Quella voce interiore Che vuole Un po' Soffocare La tua luce Perché tu hai una luce Meravigliosa E come la lasci uscire E se Riuscirai a farla Fuoriuscire Veramente Illuminerai Tutto l'universo Infatti C'era proprio il passaggio Che questa luce Arriverà a toccare il cuore Di tantissime altre persone Non sarà facile Sarà un Un raggiungimento Del proprio io Del tuo vero io Ma Lavora Su te stesso O su te stessa Spogliati di tutti I giudizi E i pregiudizi E abbi il coraggio Di essere chi davvero sei Perché quando questo succederà Ti aspetteranno solo cose Meravigliose In questa vita E io te le auguro Tutte 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 Ma ora procediamo A un altro mazzo Di Esercizi pratici Di mindful Mindfulness Meditazione Quindi proprio L'essere presente L'essere Si presente Vediamo Magari se fuoriesce qualcosa Come esercizio pratico Che possa aiutarti Nel concreto A raggiungere Questo Obiettivo Spirituale Vediamo un po' Allontano un po' Al microfono Cosa può aiutare Questa persona A raggiungere La propria luce Interiore Allora È successa un po' La cosa che è successa Prima Non identica Ma simile E questa è la carta Che è uscita Respira Respira Nota il tuo Il tuo respiro Quindi Fai attenzione Al tuo respiro E a come Seguilo Attraverso il tuo corpo E ripeti Quindi questa carta Ti suggerisce Degli esercizi Di respirazione Che sono Molto 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 Comuni In chi inizia A praticare Meditazione Rilassamento Diciamo che Il respiro È proprio Alla base Ma molto spesso Ci affanniamo E Poi è una cosa Il respiro È Automatica Che noi facciamo Senza riflettere Senza pensarci No Pensa al tuo corpo Quanto è intelligente Quante cose fa In automatico Senza che tu Te ne renda conto E noi molto spesso Lo trattiamo male Il nostro corpo Per tanti motivi Diversi Ecco Impara a prendertene Cura Partendo proprio Dalla respirazione Prenditi Cinque minuti Al giorno Che possa essere Inizio Fine giornata In un momento Tranquillo Quest'essi cosa Tu stia facendo Non è importante Ma Senti il tuo respiro Notalo Accogli La meraviglia Del tuo corpo Quello che fa per te Ogni giorno Ogni minuto Ogni secondo E ringrazialo Anche Perché ti tiene in vita Perché ti fa Vedere il mondo Perché ti fa Esistere Quindi questo È quello che Le carte Volevano dirti E pensavo che Sarebbe stato Un po' più breve Però tutti i messaggi Che ho canalizzato Io Ho voluto Farteli arrivare Perché questo Il senso No Non voglio Porre limiti A Quello che L'universo Ci vuole Far sapere Però Ora Proseguiamo E Attentriamoci Verso Un rilassamento Un po' più fisico E un po' meno spirituale Ora che la mente sa Il corpo può rilassarsi E io ti aiuterò anche Per questo Allora Ora vorrei Proporti dei suoni Per Iniziare A entrare Un po' In uno stato Di rilassamento Un po' più Un po' più Se ti piacciono I cani Ti voglio far vedere Questa meravigliosa Immagine Questo è Credo in realtà Un sottobicchiere Che ho comprato Qualche mese fa Ma che uso come Reminder I cani Sono Credo La cosa Che mi renda Più felice Nella mia vita E io spero E io spero Un giorno Di poter Per un motivo O per un altro Averli sempre Intorno a me Magari Magari Perché diventerà Perché diventerà Il mio lavoro Stare in mezzo Ai cani O Non lo so Per qualche motivo Io è questo Che voglio Della vita E quindi Ho questo Reminder Sempre vicino a me In cucina E ovviamente La parte Dietro È in succhero Ed è Molto Molto Bello il suono Però te lo volevo Far vedere Perché In questo mondo Per fortuna So che tante persone Amano i cani Ogni volta Che guardo Questo Piccolo Pezzo Di Succhero Io mi sento Felice Quindi ti invito A fare lo stesso A mettere Qualsiasi cosa Piccola o grande Che sia Che ti faccia Stare bene Vicino a te In modo che tu Possa guardarla Sempre E raggiungere Quella luce Interiore Fa tutto Parte Dello stesso Processo Dello stesso Percorso Che Grazie a tutti Fammi misurare una cosa Se posso Ve ne è un po' più vicino Ok Quindi da lato al basso Nove Lato, lato Tredici Questo lato Sì, le tue insicurezze sono ancora troppo grandi E La stima di te è ancora troppo piccola Ma sono sicura che riuscirai a lavorarci Lo sai che quando vuoi hai bisogno Io sono sempre qui Sempre qui Bene Il nostro tempo insieme È quasi finito È quasi finito Ma voglio Fare un po' di Brushing Sulla tua faccetta Per farti andare un anno Felice Sereno O sereno Sulla tua ci Ok Sì un'ultima cosa ho un regalo per te qualche settimana fa ho letteralmente trovato un oggetto che io amo è una candela l'ho trovata l'universo l'ha fatta arrivare a me e io credo che il senso fosse che io la dessi a te questa è la candela che ha un meraviglioso odore di ciliegia tipo e si chiama fiamma eterna ed è per questo motivo che voglio che l'abbia tu così che tu possa accenderla e mentre è accesa manifestare che la tua fiamma interiore possa fuoriuscire illuminare il mondo come è destino che sia allora io te la dono e la metto qui e ti ringrazio tanto di essere stato o stata qui con me spero che in questo video tu abbia trovato qualsiasi cosa fosse destinata a te grazie ciao 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 ciao